La seconda commissione Trasporti e l'assessore regionale competente hanno effettuato un sopralluogo allo stabilimento Alstom di Savigliano. Dall'incontro è emerso che il gruppo industriale francese, che opera nel settore della costruzione dei treni, fornirà a Trenitalia 150 nuovi vettori regionali, destinati alla media capacità. L'accordo quadro è del valore di circa 900 milioni di euro e prevede un'opzione per le attività di manutenzione. Il primo contratto applicativo è di 47 treni per un totale di 240 milioni di euro.